Qual è l'efficacia a medio e lungo termine dei farmaci anti TNF nelle spondilartriti e come questa efficacia si confronta con quella dei farmaci di nuova generazione in particolare con upadacitini? Abbiamo parlato di questi temi con il dottor Marco Bardelli che abbiamo incontrato qui a Vienna al congresso europeo di reumatologia. Dottor Bardelli qui al congresso dell'eura sono stati presentati dei dati di un registro di Real Life che ha valutato proprio l'efficacia nel medio del lungo termine dei farmaci anti TNF che come dicevamo sono la vostra prima linea biologica. Di che registro si tratta? Che valutazione è stata condotta e soprattutto quali sono i risultati? Il registro di cui stiamo parlando è il registro Corevitas dove sono stati valutati 152 pazienti affetti da sponidite anchilosante in trattamento con farmaci anti TNF in prima linea e è stato visto come la rivalutazione del raggiungimento del bus die quindi della riduzione dell'attività di malattia del 50 per cento a 6 e 12 mesi è stato visto come l'efficacia in realtà poi nel tempo venga persa perché in realtà a 6 mesi solamente più del 70 per cento dei pazienti non raggiungeva l'end point primario che era il bus die 50 e addirittura a 12 mesi la percentuale superava l'ottanta per cento quindi in realtà quasi 9 pazienti su 10 non raggiungevano la remissione o la low disease activity sperata. Quindi in realtà in questo caso questo registro di Real Life ci fa vedere come il farmaco anti TNF non solo a 6 mesi non raggiunga il 50 per cento della riduzione dell'attività di malattia ma nel tempo ci sia anche una perdita di efficacia quindi una perdita di persistenza ed efficacia. Questi dati rispecchiano anche quello che vedete nella vostra pratica clinica quotidiana? In realtà sì perché come gli anti TNF vengono utilizzati come ci viene poi indicato dalle linee guida internazionali in prima linea ma spesso per alcune tipologie di pazienti non sono i farmaci purtroppo più adeguati per raggiungere quella remissione clinica quella low disease activity che ci aspettiamo. Senta vediamo invece i farmaci di nuova generazione. Qui al congresso dell'euro sono stati presentati i didati a due anni su pazienti appunto sempre con spondiloartrite che hanno valutato nella real life l'upatacitinib che appunto come abbastanza noto è un GEC inibitore. Di che studio si tratta e quali sono i risultati? Sì allora lo studio nello specifico è il select axis 2 che prendeva in studio una popolazione di pazienti bioexperience quindi che avevano già fallito una prima linea di farmaci biotecnologici in questo caso anti TNF alfa e venivano valutati come andandola a inserire su due bracci di terapia. Erano 420 pazienti e venivano inseriti in maniera randomizzata al placebo oppure a upatacitinib 15 mg al giorno e dopo 14 settimane il braccio in placebo veniva inserito con terapia di upatacitinib 15 mg. La particolarità dello studio è un long standing quindi è uno studio che valutava fino a due anni quindi oltre a 104 settimane di terapia è stato visto come alla 52esima settimana per esempio quasi più del 70% dei pazienti raggiungeva l'ASAS 40 e l'ASDAS low disease activity e che questo era mantenuto poi nel tempo fino alla 104 settimane quindi un'ottima persistenza del farmaco anche come efficacia e l'altra cosa diciamo molto positiva del farmaco di questo Jack inibitor è che i pazienti che alla quattordicesima settimana rientravano nel braccio di upatacitinib 15 mg in realtà riuscivano a raggiungere la stessa performance di quei pazienti che già alla settimana zero avevano iniziato la terapia con il farmaco. Quindi con l'antitnf il 70% non raggiungeva questo indice che appunto misura l'efficacia del farmaco in questa specifica malattia a cui succede esattamente il contrario, il 70% lo raggiunge, direi che è una differenza abbastanza abissale. Esatto e soprattutto un altro aspetto diciamo importante dell'attività di queste nuove small molecules è proprio l'attività sul dolore infatti andando a valutare in questo studio i PROS dei pazienti è stato visto che c'era un miglioramento del lato dolore quindi una migliore qualità di vita quindi una riduzione dell'impatto della malattia stessa sulla quotidianità dei pazienti analizzati. Senta i PROS per i non super addetti ai lavori che cosa sono? Sono i patient reported outcome cioè sarebbero tutti dei questionari o comunque dei questionari validati per cui viene messo in evidenza quanto la malattia artritica attiva modifica la qualità della vita del singolo paziente quindi sono proprio dei dei questionari autosomministrati fatti direttamente dal paziente. Quindi il paziente che giudica come sta andando la sua malattia. Esatto quindi le sue impressioni quindi la parte anche più personale diciamo della malattia che interviene nella sua vita nella propria vita quotidiana. E quindi è un grosso valore. Senta allora a questo punto la domanda assorge abbastanza spontanea quando rivalutare la terapia anti tnf perché comunque dovete sempre partire con l'anti tnf per tanti motivi però quando rivalutarla per capire se è giusto cambiare oppure se va bene rimanere con quei farmaci non è che vadano cambiati sempre ma quando rivalutare e come si fa a rivalutarla dottor Bardelli? Certo allora ricordiamoci sempre che in un approccio terapeutico dobbiamo sempre ricordare il treat to target quindi un approccio del raggiungimento nel più rapido tempo possibile di quella low disease activity nelle artriti long standing oppure la remissione in quelle artriti di nuova insorgenza e la valutazione di solito viene fatta come ci indicano anche le linee guida internazionali a sei e appunto dodici mesi. Chiaramente a sei mesi deve essere rivalutato per esempio per quanto riguarda una spondilite anchilosante, una spondilartrite con la valutazione di tutti quei PROS di cui abbiamo parlato prima e magari anche una valutazione radiologica quindi con un utilizzo della risonanza magnetica che ci fa valutare l'edema os subcondrale a livello delle sacriologiche che sappiamo essere sempre un indice di attività di malattia oggettivo e poi sicuramente la clinica quindi basarsi sempre sulla clinica e a quel punto valutare se il nostro approccio terapeutico si deve basare su uno switch quindi riproporre ancora lo stesso meccanismo d'azione oppure in questo caso come abbiamo visto e come ci siamo detti oggi passare magari a uno swap cioè passare a un altro meccanismo d'azione in questo caso abbiamo parlato dei jack inhibitors